Una requisitoria di quattro ore e mezzo, la ricostruzione dell'inchiesta Colletti Bianchi che ha alzato il velo sul metodo che nel tempo e il convincimento della procura di Prato avrebbe permesso a tanti cittadini cinesi di ottenere il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. Al termine della discussione il pubblico ministero Lorenzo Gestri ha chiesto al giudice delle odienze preliminari di condannare Zhong Rong Chang, socio a comandatario dello studio del commercialista Alberto Robbi e la compagna Zhao Shan Shan, entrambi difesi dall'avvocato Veltri, rispettivamente a sei anni e a quattro anni e due mesi per associazione a delinquere finalizzata al falso. Per i due imputati che hanno scelto il rito abbreviato l'accusa ha chiesto anche che non vengano riconosciute le attenuanti generiche. L'inchiesta è di novembre dello scorso anno, un lavoro imponente quello degli investigatori sul sistema di fabbricazione di documenti falsi utili a consentire ai cinesi di avere il permesso di soggiorno anche in assenza dei requisiti. Un sistema possibile, secondo la procura e la guardia di finanza, grazie alla collaborazione tra liberi professionisti e imprenditori cinesi. Già a giudizio, con rito immediato, Alberto Robbi, a capo dello studio professionale con sedia Verona, Mantova e Prato, che avrebbe sfruttato la giornata.